Non rinunciare ai vostri soldi, non stai a rinunciare alla vostra terra. Luisa e Bilal sono amici. Dove si quanto? Se ti porti di casa secondo me è meglio. Stiamo scherzando, domanda i soldi a Luisa. Non dovete mettere dentro il dito fino a quando non decidete di sparare. Vengono! Ma la mia mente lo sta spazionando! Si doveva fare le roba insieme, si doveva sputtanarlo col merda. Ciao testiscai. Luisa, Luisa com'è? È carina? Tutti lo sapevano! Tu devi fare qualcosa per lei. Lei non può essere come tutti gli altri. Fai via! Papà! Bilal! No, bastatelo! Vuoi sentarti? Vuoi tornare tutto indietro. No, bastatelo! Vuoi sentanto? Vuoi sentarti? Lau ma...